oggi penso che dal titolo si sia già capito non faremo altro che andare ad affrontare il monumento marino e quindi andare a prendere le spugne e un po' di robe detto questo devo un attimo svuotarmi l'inventario perché ho seriamente troppe robe appunto a cercare e a trovare il monumento marino in minecraft e qui devo ancora riparare la porta un giorno me lo ricorderò lei può morire grazie lei non so perché abbia una pozione ma va bene andavo appunto prendendo un po' di canne da zucchero perché appunto devo andarmi a craftare un bel po' di razzetti e fidatevi ci serviranno potremmo anche andare a craftare un po' di pozioni di respirazione sott'acqua tuttavia non penso proprio ci servano perché sarà craftarci qualche porta perché secondo me c'è il modo di sopravvivere sott'acqua senza utilizzare le pozioni o altre robe abbiamo circa uno stack e 63 di canne da zucchero direi di prenderne un altro po' e ci vediamo fra poco quanti creeper ci sono ragazzi sono 5 creeper o 4? no 4 4 perfetto direi che siamo a posto andiamo a craftare un po' di fogli forse ne ho prese effettivamente troppe di canne da zucchero ma chi se ne frega meglio abbondare e andiamo a craftare uno stack di razzetti più che uno stack ovviamente quindi butto un po' di robe perfetto le altre canne da zucchero le vado a mettere qui così ci possono servire in altre occasioni portiamoci anche un po' di fogli così ci facciamo un po' di smeraldi le frecce un po' di roba allora si lo so ragazzi che dovrei svuotarmi l'inventario in un posto tipo in una cesta fatta per bene ma per il momento non ho voglia quindi ci svuotiamo qui punto e basta anche un altro tridente mettilo qui qui ho un cuore del mare che tuttavia ci dovevo fare un altro video allora il villager che tradava la mappa dovrebbe essere qui dentro e se vi stiate chiedendo come ho fatto ragazzi è semplicissimo basta andare a guardare il video che magari vi metterò qui sopra nelle schede perché all'interno di quel video mostro appunto come sbloccare anche la mappa dell'esploratore degli oceani a questo villager guardate quel video se volete vedere come si fa la mappa qui mi ero già preparato gli oggetti che ci serviranno per appunto andare a tradare la mappa ed ecco qui la mappa dell'esploratore degli oceani ovviamente si chiama così ma si intende il monumento marino quindi si questa qui è la mappa come potete vedere dal grafico vediamo un attimo le torce così la vediamo meglio vi spiego come funzionano queste mappe perché non tutti sanno come funzionano come potete vedere noi siamo quel pallino in basso in basso a destra nella mappa vedete per appunto raggiungere il monumento marino comunque ragazzi ma non so come mostrarvelo era F3 ok ho messo il gioco in pausa questa roba sembra un po' l'italia cioè un poco non tanto però un po' la forma cece fatto che noi ci troviamo in basso a destra dobbiamo andare verso sinistra però appunto non possiamo andare verso sinistra ok sto guardando in questa direzione la mia sinistra è questa quindi andare in questa direzione non c'entra assolutamente nulla dobbiamo ragionare secondo i punti cardinali quindi dobbiamo andare verso ovest in questo momento usando le coordinate vediamo che in questa direzione c'è l'ovest quindi noi dobbiamo andare verso questa direzione dobbiamo anche leggermente salire quindi un minimo perché vedete che il monumento si trova più in alto quindi dobbiamo andare verso nord-ovest ovest è da questa parte nord è da quest'altra quindi dobbiamo prendere per questa direzione spero di essermi spiegato abbastanza bene detto questo andiamo in verso questa direzione speriamo non sia troppo lontano diamo la mappa nella seconda mano e nell'esatto momento in cui il pallino diventerà leggermente più grande significa che ci stiamo avvicinando faccio un taglio e ci vediamo quando comparirà qualcosa sulla mappa a fra poco ovviamente il fatto che stiamo andando verso l'oceano penso sia una cosa buona quindi potrebbe essere magari qui vicino senza dover fare 23 milioni di blocchi soprattutto lì c'è l'oceano caldo dovrebbe essere ok ragazzi notate il pallino è diventato più grande questo significa che ci stiamo avvicinando continuiamo in questa direzione magari si trova da questa parte proviamo ad andare un po' più dritto ok come potete vedere ci stiamo muovendo quindi dobbiamo andare verso questa direzione perché adesso dobbiamo salire leggermente vedete che nel bordo ci stavamo muovendo quindi andiamo un pochettino più qui verso il monumento adesso dobbiamo salire quindi verso questa direzione ed ecco qui il monumento marino screenshot fatto togli sta scritta che mi dà molto fastidio e abbiamo già raggiunto il punto che dovevamo raggiungere purtroppo abbiamo l'incantesimo di Mening Fatigue spero che non mi colpiscano in molti e mi stanno già uccidendo muori anzi sapete che vi dico ragazzi dato che l'arco sott'acqua non funziona possiamo utilizzare il tridente inoltre dobbiamo raccogliere anche un po' di prismarine ok morto fortunatamente muoiono con due colpi dato che abbiamo il tridente perfetto possiamo anche togliere la mappa ed inoltre sono tipo 40 minuti che sono sott'acqua non sto praticamente prendendo danno nonostante abbia finito le bolle e quando li eviti il tridente fa un viaggio molto più lungo quindi evitiamo di evitarli senti sono fuori dall'acqua quindi utilizzo l'arco tiè tiè e l'arco è leggermente più veloce comunque mi è venuta una mezza idea per cambiare anche la loro texture quindi dovrei cambiare praticamente la texture di tutto il monumento marino dato che vorrei farlo passare da questo verde acqua a un verde leggermente più acceso un po' come il tridente ragazzi non è che sia cambiato tanto però ho cambiato un po' di saturazione ecco questo non vuol dire che stia ricominciando a lavorare alla texture pack perché no non ho né tempo né voglia per il momento però ogni tanto qualche esperimento con le texture mi viene voglia di farlo poi esce qualcosa di carina e lo lascio diciamo mettiamola in questo modo ecco che sto uccidendo robe da due ore si può vedere da quanti cavolo di troppo ho nell'inventario soprattutto questo tizio continua a ridarmi la maledizione ogni 3x2 quindi è una rottura da qualche parte dovremmo riuscire ad entrare tipo da qui ok proviamo ad entrare un mini labirinto e qui c'è un boss poi penserete quanto cavolo ci metterai ad ucciderlo va bene un colpo di tridente l'ho evitato non so come ho fatto 4 colpi di tridente è morto ovviamente è meglio mettere il totem nella seconda mano voi siete praticamente morti perché non avete dove scappare e purtroppo quando sei full nederite l'esperienza si perde un po' ecco anche perché non ho nessun tipo di pozione raga e vedo tutto benissimo vedete che all'interno di questo monumento ci sono ben 3 boss e il nostro obiettivo è ucciderli tutti e 3 e soprattutto droppare le spugne facendo in questo modo vedete poco a poco continuiamo a riprendere aria ecco questo qui ragazzi è il metodo più utile mettersi qui sopra dato che le torce ah ho creato praticamente un posto dove si può respirare top praticamente ho buggato il monumento c'è un buco lì perfetto comunque vedete quello che vi dicevo prima non serve avere tutte le pozioni e altre robe se magari non avete un'armatura potente come la mia e delle armi effettivamente sì perché il tridente mi ha aiutato seriamente un botto e ho trovato un altro boss e mi stanno colpendo seriamente in troppi perché capisco che sia OP con questa armatura e chi abbia il totem però evitiamo di morirci ok non voglio nemmeno attivarlo il totem se volete affrontare questa struttura fate il mio video su come creare un tridente perfetto perché è seriamente l'arma migliore guardate quanti cavolo sono però dopo un po' non diventa più una roba d'avventura tipo di combattimento sott'acqua perché era carino dopo un po' diventa una noia mortale perché ne spawnano a milioni comunque per chi lo volesse sapere qui dentro dentro questa struttura c'è dell'oro purtroppo per il momento non posso prenderlo perché ho la maledizione che non mi fa scavare scavare sott'acqua già è lento di suo immaginate dover scavare con questa maledizione qui ci dovrebbe essere esatto l'altro boss quindi facciamolo fuori un colpo di tridente due è morto e ci ha droppato una spugna può essere molto utile soprattutto se dobbiamo scavare o dobbiamo svuotare posti pieni d'acqua quindi sì inoltre la maledizione durerà altri 42 secondi che noia che rottura c'è un ultimo boss che dobbiamo trovare per il resto possiamo dire di aver affrontato completamente questo posto quindi sì dobbiamo trovare quest'ultimo boss e farlo fuori perché voglio farmare un bel po' di blocchi di questa fortezza quindi sì troviamolo due cose positive uno ho trovato la roba delle spugne e l'altra non è positiva non so perché l'ho chiamata positiva a trovare l'altro boss quindi sì sto continuando a girare puoi morire per favore anche mi sembra che sott'acqua la spada si ricarichi molto più lentamente forse è solamente una mia impressione ma mi sembra assolutamente di sì ok finalmente ho trovato l'ultimo boss cerchiamo di farlo fuori velocemente così non merita sta cavolo di maledizione finalmente possiamo scavare quanto cavolo ci pare anche sott'acqua e guardate a che velocità scaviamo quindi sì adesso mi farmerò un bel po' di blocchi avrei potuto portarmi una shulker box e non l'ho fatto perché probabilmente sono stupido detto questo poi riprendo un pochettino d'aria scavo qualche blocco che mi può servire utile guardate quanti blocchi e quanto pesce cotto abbiamo praticamente affrontato tutto il monumento marino adesso mi andrò a raccogliere un po' di spugne prenderò qualche blocco interessante il piccone asiltac la pala sì però esatto come le lanterne che possono essere molto utili tutto questo nulla ragazzi io mi metto un pochettino a scavare qualche blocco qui ci siamo salvati le coordinate e nulla nel prossimo episodio mi vedrete direttamente a casa magari ad utilizzare questi nuovi blocchi in nuove costruzioni grazie grazie grazie